Allora, è successo che una bicicletta è scivolata con il bambino seduto e legato col caschetto sul seggiolino anteriore, scivolando la bicicletta il piede del bambino si è incastrato tra la forcella e il seggiolino ed è caduto, cioè cadendo la bicicletta si è fatto male. Quindi al piede? L'età del bambino più o meno? Ci avrà tre anni, penso ne ha più di più.